Endless Love continua ancora. Nella puntata di domani, Kemal farà una scoperta tristissima e penserà che sia giunto il momento di rassegnarsi. Ecco cosa accadrà nell'episodio di martedì 29 ottobre. Nella puntata di sabato scorso di Endless Love, Kemal ha fatto qualcosa di inaspettato e incredibile. L'uomo, infatti, è fuggito con sua figlia, la piccola Denise, portandola via dalle grinfie di Emir. Il marito di Nian, infatti, aveva trovato il modo di far trasferire all'estero Nian e la bambina, per allontanarle da Kemal, ma quest'ultimo l'ha scoperto. Furioso con Emir, Kemal ha deciso di fuggire con la figlia, in un luogo sconosciuto. L'uomo è riuscito a sfuggire a Emir e alla polizia, e a rifugiarsi in una località non ben specificata. Ad aiutare Kemal è stata anche la sorella Zeynep, che ha trovato il modo di farlo fuggire senza farsi notare da Emir e dalla polizia, oltre che a Ian, Leila e i genitori, Feime e Husein. Questa settimana inizierà, dunque, con Kemal in fuga, e con Zeynep e Tariq che parleranno di questo argomento. Banu origlierà la conversazione tra le due, e rivelerà a Emir che è stata proprio Zeynep a salvare Kemal. Questo porterà a una serie di conseguenze particolari, che, e, sfortunatamente, avvicinerà Emir sempre di più alla persona che cerca. Scopriamo, in particolare, cosa accadrà nell'episodio di domani, martedì 29 ottobre. Endless Love, le anticipazioni della puntata di domani, Zeynep rivela qualcosa ad Akan. La puntata di domani inizierà con Kemal, ancora nel nascondiglio con la piccola Denise. L'uomo cercherà di non farsi trovare, anche se sarà sempre più difficile. Questo perché, da una parte, c'è il crudele Emir, che è pronto a tutto per trovare lui e la bambina, e per evitare definitivamente che lui prenda la piccola Denise. Dall'altra parte, invece, c'è la polizia. Akan, infatti, ha dispiegato le forze di polizia, per far arrestare Kemal. Proprio per questo motivo, Zeynep cercherà ancora di aiutare il fratello, rivelando ad Akan che, in realtà, Denise è la figlia di Kemal, e non di Emir. Akan reagirà in maniera inaspettata alle parole di Zeynep, l'uomo, infatti, si dirà dispiaciuto di non poter fare altro che continuare le ricerche. Nonostante capisca il motivo per il quale Kemal ha rapito Denise, infatti, è in suo dovere arrestare una persona che, da un punto di vista prettamente legale, ha rapito una bambina che, sempre da un punto di vista legale, è figlia di Emir. I parenti e i conoscenti di Kemal verranno, dunque, sorvegliati 24 ore su 24, in particolare dagli scagnozzi del crudele Emir. Alla fine della puntata, Kemal farà una scoperta tremenda. L'uomo, infatti, scoprirà che qualcuno ha fatto la spia e che, dunque, il suo piano è fallito, e presto qualcuno arriverà a prendere lui e Denise. Per questo, Kemal cercherà di capire chi potrebbe aver fatto la spia.